Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sai iscriviti al canale e attiva la campanella, ti darò due validi motivi alla fine del video per farlo. Mi ha scritto l'amico Mirko giusto ieri, leggo testualmente. Buonasera Marcello, quando hai tempo potresti parlare di una moto di Vodge, da poco uscita la 350 AC con 40 cavalli, motore bicilindico, un peso di 158-160 kg, un motore bicilindico che arriva a 160-170 di velocità massima, con consumo esterno ridotti e un prezzo chiave in mano di 5.100 euro, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ringrazio anticipatamente Mirko 74. E quindi oggi parliamo di Vodge, trofeo 350 AC del 2023. L'azienda Loncin nasce nel 1983 a Kong King, una delle più grandi metropoli della Cina centro-meridionale. Il marchio Vodge nasce poi come brand di Loncin nel 2018 per sviluppare motociclette che si distinguono per le prestazioni elevate e per la tecnologia. La Vodge Trofeo 350 AC riesce quindi a coniugare le linee del passato con gli elementi moderni che la caratterizzano. Quindi vediamo la moto in questa bella immagine che la ritrae, bellissimo questo serbatoio giallo che spicca sul nero del motore. Partiamo dal motore appunto che è un bicilindico, la cilindata di 321,8 cm3, con la distribuzione a doppio albero cam in testa e 4 valvole per cilindro. Il raffreddamento è liquido, la potenza massima di 40,8 cavalli, 10.500 giri al minuto. La coppia massima è di 31 Nm a 9.000 giri al minuto. Il terraio è realizzato in tubi d'acciaio ad alta resistenza, mentre la sospensione anteriore è formata da una forcella a steli rovesciati ben visibile con il diametro degli steli da 35 mm e l'escursione di 125,2 mm. La sella non molto alta è a 785 mm da terra. Al posteriore siamo in presenza di un monomotizzatore col precabrico della molla regolabile. L'escursione, in questo caso, della ruota è di 30 mm. Le ruote, la lega leggera, vedete, con queste belle razze, sono da 17 pollici. L'impianto frenante, vediamolo qui, ha l'anteriore formato dal disco singolo e con un diametro di 300 mm, naturalmente singolo a 220 mm al posteriore. Il serbatoio ha capacità di 12,5 litri. Il consumo, dichiarato dalla casa, è di 28 km con un litro di benzina. La velocità massima è di 158 km orari e il prezzo è di 4.590 euro. Se ti è piaciuto, metti un like. Se non ti è piaciuto, dislike, iscriviti al canale e attiva la campanella. Primo, è gratis, non si paga nulla. Secondo, faccio un video al giorno. Sei sempre aggiornato al giornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi. Ciao, buona serata.